Con la luce di questa bella giornata la telecamera non riesce a prendere bene il contatore a led che indica i giorni del cantiere. Eppure avete aumentato di 28 giorni la scadenza per la fine dei lavori. Sì, in effetti ci è stata data la comunicazione circa tre settimane fa della possibilità di uso del ribasso d'asta che era stato annunciato come possibilità dal Presidente Maroni quando è stato in visita col Sindaco e con molta efficienza qualche giorno dopo è arrivato il parere. Per la verità il parere era già stato istruito e quindi è stato fatto comunque un bel lavoro. Quindi l'Asda e il Comune di Clusone si trovano a poter disporre di circa 250 mila euro in più che equivalgono allo sconto che ha fatto l'impresa 2P con l'aggiunta della sua IVA e questi soldi sono stati concessi perché la motivazione era di completare il cappotto della facciata, un cappotto da 12 centimetri, sostituire tutti i seramenti a sud che non erano vecchissimi ma comunque avevano 30 anni, un impianto fotovoltaico sul tetto da 18 kilowatt che consentirà di scambiare l'energia elettrica direttamente sul posto e poi è stato potenziato il sistema di videosorveglianza in modo da poter garantire la sicurezza anche perché vi ricordo che c'è anche la guardia medica che ha sede qui e quindi funziona tutta la notte e poi c'è anche un ausilio per gli ipovedenti o i non vedenti che sono delle mappe tattili, dei segnali a terra perché tutto questo, l'accesso possa avvenire alla massima sicurezza. Il tempo della variante prevedeva 20 giorni di lavoro in più e quindi sono stati concessi all'impresa perché facendo più lavori gli aspettava più tempo e 8 giorni li abbiamo avuti di fermo per gelo a cavallo tra dicembre e gennaio perché con il gelo le nostre lavorazioni, soprattutto quelle all'esterno, non abbiamo potuto farle. Quindi la nuova data per la fine dei lavori è il 12 di maggio, il numero che comincerete a vedere da stasera è 70 a scalare e poi al momento non sono previsti altri tempi aggiuntivi. Tutto questo era doveroso perché non potevamo immaginare che qualcuno passando fuori vedesse cambiato il numero e non se ne conoscesse la motivazione. La motivazione è che per fare maggiori lavori si concede un po' più di tempo.